farfalle con pesto di pistacchio e gamberi. In una padella con un filo d'olio aggiungere i gamberetti, sale e pepe, sfumare con un po' di vino bianco, cuocere per 5-10 minuti e un po' di scorza di limone. Versare la pasta cotta. Aggiungere qualche cucchiaio di pesto di pistacchi di Normanni. Davvero delizioso e cremoso. Perfetto per chi ama i pistacchi. Impiatare un piatto delizioso, saporito. Grazie. 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 Grazie.